Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di SteamWorldQuest Bene, andiamo pure avanti e vediamo Cosa fare Sto ancora pensando di quella strada Che ho cannato Che cosa avrebbe dato Sicuramente un segreto Molto probabilmente si Eh, lo rifarò e amen Adesso andiamo sopra Salve Oh, non ci credo Ma cavolo, ma ci non si vedono Porca miseria Allora, vediamo un po' Eh, mazzi cosa vuoi Cosa hai Cosa hai Eh, la porta due Ok La cosa due Ah, la qua Oh, vero Devo mettere questa Allora, ehm Mazzi Cosa togliamo Togliamo Proviamo così ragazzi Devo fare le prove Se non faccio le prove Non saprò mai come va a finire Eh, no, scusate Ok, così E vediamo cosa succede Ok, dai, proviamo così Vediamo come va Vai Perfetto E vediamo come va Con le nuove Oh, interessante Oh, c'è anche uno schigno L'ho visto adesso Scusate Ma proprio Non l'avevo visto Ok, vediamo Il 30% Che dovrebbe essere tanto Mamma mia Quanti danni facciamo ragazzi Eh, ovviamente Mi ha preso lo stesso Quindi facciamo così Facciamo così E facciamo così E vediamo che succede Vai Danno Danno E cura Atomica cura E questo muore Oh Grande Ci sta facendo tanto malo Io farei Siccome lui è pieno È pieno Allora, così Così E così Perché Eh, ragazzi Purtroppo quello è grosso Vediamo un po' 500 500 Mamma mia Che bella cosa Aia Mi ha fatto tanto male Però Adesso Andiamo con questo Andiamo con questo E Curiamoci Vai Vediamo che succede Sono un po' curioso In effetti Eh, non ce l'ho fatta ragazzi Purtroppo Accidenti Ah, cazzarola Cazzarola Oh, non ci posso Credere Steroid Disabilitato Ah Allora, questo Non possiamo farci niente E va bene Questo non ci possiamo Fare niente E va bene Ok 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 E basta Eh, lo so Possiamo farci poco Troppo ci ha fatto il culo Ok, rigenerato Allora Vediamo un po' Eh, posso farci poco Ragazzi, mi dispiace Ma Questo è così Eh, lui si diverte Però non è così che si fa Insomma Vai E vai Vediamo un po' Così E così Grande Grande così Benissimo Peccato che quello Non lo posso usare Vai Eh, lo so che sei stunnata Ragazza Però non ci posso fare molto Vai Vediamo Grande C'è proprio un pezzo di merda Eh, bisogna dirlo Cazzo Vediamo un po' Un po' di fortuna Vai Grande Oddio Non ci credo Mamma mia È stata veramente dura Questa, eh Ragazzi È stata dura, dura Ok Andiamo pure A prendere il nostro bottino Cazzo al 110 Presente di forza Di danni Da tempesta A tutti i nemici 136 A tutti Ragazzi E aumenta Di due gradi La possibilità Di Schivare Anche Eh, questa non è malo Un danno da massa Mi interessa parecchio Che lei Lui Non ce l'ha Allora, cosa togliamo? Bushido Gli attacchi Mandati a segno Sino a colpi critici È utile Però Non Pensateci bene Non Io toglierei Questa Toglierei questa E metterei quella A parte che È che è folata Non è male Devo poterla potenziare Questa Se no è un casino Non fa niente Ok, era questa Se non sbaglio Anche se questa Cavolo Fammi vedere Che cazzo fa Ok Carci Da bisogno di forza Eroi Tipo abilità Danni dal cane Eh, questo Non è male 124 124 per 3 A uno A un nemico Cazzo Questa è buona 124 per 3 A un nemico È buona Io la toglierei Allora, metterei E toglierei Questa qui Questa qui È bella Però porca miseria Facciamo Togliamo questa Facciamo così Se no Non ne esco più Va bene Facciamo così E vediamo come va E sarebbe ora Che trovassi qualcosa Per curarmi Perché qui Siamo messi proprio malo E questa c'è La tipa E qui Cosa c'è? E qui c'è l'altra strada Speriamo bene Colciamo le dita Oh, di nuovo Allora Eh, questa è molto più lunga Per prendere l'altro schigno Allora Destra Destra No, è Destra Destra Giù Destra Su 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 Destra Due volte destra Una volta giù Una volta destra Due volte su Allora Destra Destra Giù Destra Su 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 Uffa Allora E per prendere quello su Ma per prendere questo Devo andare giù Di questo qui Mi manda dove? Non si sa E quello è il problema Questa dove mi manda? Se io vado qui adesso Comunque dovrebbe essere Giù Sinistra Per andare qui Giù E sinistra Dovrebbe esserci uno schigno qua Ok Questa l'ho trovata E non mi interessa Cazzo Va bene Ritorniamo al Che Ok Siamo adesso Devo andare Destra Destra Giù Destra Su Su Allora Destra Dai Destra Ok 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 Mi manca solo Destra E su Adesso Siamo arrivati Ok Dovremmo essere arrivati A posto Qua E l'altro è qui Oh Meno male dai Infigia sonno Nemici per tre turni Eh Ha un nemico però Sono un uso a battaglia addirittura No Non mi interessa Ok Beh Qui posso andare solo qui Quindi Sì E di qua Ok Quindi dove devo andare? Devo andare Giù Che non posso andare Quindi devo andare A sinistra Giù Giù Allora Sinistra Giù Cioè una volta che vado a sinistra Vado lì Poi devo andare Due volte a sinistra Una volta Due volte giù Destra Giù Giù Eh Sarebbe casino Sinistra Sinistra Ok Giù Giù Di qua Mi sono già perso Allora Devo andare Destra Destra Giù 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 Destra Destra Allora Destra Destra Non dovrei andare Non dovrei andare solo giù Non dovrei andare solo giù adesso Giù 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 Destra Allora Giù Giù Destra E dovremmo esserci ragazzi Ok Via così Mamma mia è stata dura Io che mi prendo sempre È stata dura Sì Ok Perfettico Non dovrebbe esserci altro Vediamo A parte quella porta che ho lasciato inizio Gioco Oh cazzo Non aspettavo proprio Bene Andiamo a combattere E vediamo un po' Il nuovo Che Come si preannuncia Preannuncia Allora Lo sono bastardi Quindi uno qua lo faccio Facciamo così Facciamo così Prendiamo un po' di punti Va bene Grande Grande E grande Ok Ecco Si è baffato Eee Allora 136 per 2 No 136 a tutti e due E poi poco Invece questo è 370 Direttamente a 1 Però io farei così Così E io mi devo curare Porca la vacca Col gin Andiamo a vedere così Cosa succede Ok Perfetto Ok Mancato E questo va preso in pieno Io me l'ho completamente Dimenticato Che dovevo assolutamente Rigenerarmi Quindi questo va qua Questo va là E speriamo bene Che tutto vada bene Vai Proviamo così Vediamo che succede Grande Questo è morto Questo ha preso Vai Oh Oh cazzo No buono Guana Allora Facciamo una cosa Vagamente intelligente Vai Questa mi piace Mi piace Mi piace tanto Vai Vediamo cosa succede Grande Oh Cazzo Una soddisfazione Senta pari Cazzo per poco Per pochissimo Oh Mi ha dato delle cose interessanti Quindi c'è la porta Che presumo Deveva prendere Questa Oh sì Sì L'ho dato a tutti quanti Vai E purtroppo L'ho persa La prima E qui C'è qualcosa Che non mi piace Per niente E quindi Andiamo ad attaccarlo Allora Vai Oh Botta Eh Tre Cominciano ad essere tanti Tre Cominciano ad essere tanti Però Possiamo farcela Cioè è bello Se me ne dessi Eh Grande Ok Così mi piace Così vediamo anche Celerità Che cos'è Perfetto Celerità Quindi vado più veloce Solo io Per capirci Ok Grande E vediamo un po' Vediamo un po' Io farei così Così E così Vai Uh Interessante Molto interessante Vai Grande Vai così Perfetto Ottimo Grande così Mi sei piaciuto tanto Ok Allora Ehm Così Così E Cosa facciamo Facciamo così Facciamo così Ah Chi se ne frega Per una volta Facciamo un po' Ok E' mancato ovviamente Perché loro hanno un super mega Buff di schivamento Atomico E quindi io non posso fare un cazzo Vabbè Intanto ci curiamo Ok Eh Siete che danno fisico Ho avuto fortuna O comunque Ha una buona schivata Ha una buona presa Insomma E Questo Che così muore Questo che così muore E questo qui così muore Vai Cioè non muore però Quello muore sicuro il primo Ok Grande 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 E grande Ok Perfetto Assorbito Doppio assorbimento Allora Questa cura mi servirebbe parecchio E questo per tre Mi serve anche Io farei così Per guadagnare E poi Nel di questo Vai Facciamo così Ok Andata bene Vai Grande così Oh Questa è un'arma La seconda arma che mi piace Di finire il gioco Ok 105 di cuore E 110 lui E l'altro invece Più magia e 20 Vabbè Me lo faccio bastare Perfetto Questa statua Non si può fare niente Quest'altra statua niente Salve Oh cazzo Porca manca Ho fatto la caccata E l'ho pacata Ehm Andiamo un po' No Io direi questi Perché sono quelli più malefici Vai Proviamoci Ragazzi È l'unico modo Vediamo cosa cambia Vai Grande Shottato Alla grande Celerità Spero Mi faccia andare più veloce Col turno Non lo so eh Non ci vado così Oh Interessanto Vai Vai così Mi pio Oh Che cosa gradita ragazzi Che cosa stragraditissima Vai Oh Bello Bello Mi è piaciuto Adesso È tutto un gioco da ragazzi Vediamo un po' Interessanto Ecco qua Vai Così ci troviamo un altro po' di scudo Eh lo so perché sarà duro ammazzare Però abbiamo tutto il tempo che vogliamo Intanto possiamo assorbire parecchio Ok Assorbito tutto Ehm Sì Io direi così Così almeno Mi rigenerano un pochino E non fa mai male Intanto questo punk subisce Perfetto Tra l'assorbimento Eh Questo è andato un po' male Però possiamo fare così E Così E Così Vai Perfetto Grande Grande Oh Dai che siamo quasi pieni Perfetto Questo è quasi morto Vediamo un po' Ottimo Adesso Cosa fare Mmm Deve fare così Questo è ormai è morto E ci andremo Vabbè Facciamo così Vediamo cosa cambia Ottimo Andata Tanti saluti A tutti quanti Anche parenti E questo mi faccio indietro tutto Ok Bene Siamo pieni Allora Io direi di fare così Così E Questo qui mi ricura Ma non mi serve un cazzo Facciamo così Ok Vai Grande Grande È grande Oh 500 Ragazzi L'ha praticamente ucciso Ah Non guardo neanche A sto punto Facciamo così Qualsiasi cosa sia Va bene Eccolo qua Ciao Fantastico Andata Benissimo È proprio Siamo pieni Completamente Cazzo Mi ha dato parecchio Interessante E quindi Qui ci sarà Un boss Proprio Ci sarà Avendo mancato Quel pezzo Maledizione Purtroppo Mi rosga tantissimo La mappa Non si capisce mai un cazzo Come al solito Pronto Oh Nessun altro Lo riconosce Che libro sarebbe Oh È solo Il libro Che Una certa persona Ha preso Così tante volte In prestito Dalla biblioteca Che la copertina Si è staccata E ha dovuto sostituirla Oh Quel libro giusto Ah ah Che bello Oh ma Guarda Si è fatto tardi Dobbiamo andare Eh certo Orgoglio E alchimia Va bene Ok Non ho capito Un cazzo Come al mio solito Però va bene lo stesso Cioè si Ho capito Però Insomma Va bene Arrivo Subito Vieni qua Oh Stavolta Ti ho preso Eh Eh Io Vado subito Su di lui Ragazzi Perché Troppo stronzo Lui Vediamo se riesco a fare qualcosa Niente Mi è andata male Però forse Dai facciamo così Vediamo cosa cambia Vediamo Sì sì No dovrei Sì è morto È morto Grande Benissimo Mi piace questa cosa Che riesci a one shotare Con Sì Diverse abilità Ovvio E Cura No Proviamo Dovrebbe essere debole Al ghiaccio Lui Però non così tanto Da uccidere Però Abbastanza Oh Ottima sta cosa Facciamo così Questo va bene Eh Questo Mi dai due Ok Almeno mi rigenero un attico E siamo a porto Vai Grande Non è morto Questo fa quello Oh Avesse avviene tutto quanto Grande così Ovviamente Oh Bene Hai fatto una prossima scelta Ragazzi 125 Ottimo 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 Più vita abbiamo Meglio Insomma Sì Vediamo cosa Cosa c'è Ah Dicevo che c'era qualcosa Mi avevo preso Quasi un colpo Ho detto Cavolo ne ho trovato un'altra Invece non c'era un cazzo Vai Vediamo qua Vediamo qua Io penso Credo sempre che ci sia qualcosa Però Attenzione studenti studentesse Mi è stato riferito Che un gruppo di intrusi Si sta girando nel campus Sta parlando di noi Detti delinquenti Sono pregate di consegnarsi Altrimenti saranno Individuati e catturati Con ogni mezzo necessario Che classe Questa non è proprio La maniera tradizionale Di seguire il regolamento Ma lei non è mai stata Una tradizionale Una tradizionale La trama si infetisce Esatto Giuro che ti sbatto Di nuovo In quella gabbia Ok Oh Io volevo andare là Oh Aumenta di 3 gradi La magia di Copernica Ma ne riduce di 2 Tutte le difese Per 3 turni È Interessante Ad addizionare Quell'altro Non è male Eh ragazzi Quindi io Metto di insieme Questo è buono Sì Questa è buona Perché Regenera Però 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 C'è da dire tante cose Quindi Così No scusate Così Ecco che sonno Porca miseria Dove cavolo Era la carta Che ho appena preso Ma no Basta Era Questa Eh la voglio provare Ragazzi La voglio provare Assolutamente Ma che cacchio C'è ancora Ah beh loro Ovviamente Ma non mi interessa Ok andiamo E vediamo che succede Vai Ah Ah cazzo Non ce l'ho fatta Uff Porca vacca Eh questa È dura Vediamo cosa posso fare Ci sto pensando eh Perché devo capire bene Che tipo di Attacco voglio fare Eh L'unica è questa Purtroppo non faccio la catena Però Un po' di danni Gli faccio Troppo pochi Per quelli che mi fanno loro Si Aia Oh bene Allora Così 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 Dai proviamo Vediamo che succede Ok Ok E ok Ho abbastanza Per fare un attacco Di abbastanza dopo Sempre che loro Mi uccidano Sempre scherpe che loro Mi uccidano Allora Queste per tre Ah Si sono baffati Quindi Niente Io mi curerei Così almeno Sono sicuro Vedete Perché non ho voluto farlo Ok Andata Perfetto Uno è morto Ok Mi ha fatto malo Però Mi rigenero subito E vediamo come va ragazzi Perché così non posso fare Ok Sono molto in alto Con la Mamma mia Ho preso Questo l'ho mancato E questo qui Ciao Ha curato Ok Non ho trovato niente Che possa Essermi utile Però Questo Lo posso usare Questo Lo posso Usare 124 per 3 Fa 300 Passa Quindi io direi Di usare questo E magari questo Vai Così mi piace di più Vai Sei morto Mi dispiace Oh grande Lui ha delle armi Che sono fantastiche Bene 16 di attacco Non mi interessa un cazzo 22 di magia lui Dovrebbe essere l'inverso Non sarebbe piaciuto di più Però Vabbè Meglio più che meno Oh cazzo Non mi ricordo Da che parte devo andare Come al solito Mi perdo sempre E come l'impressione Che qui ci sia già andata Perché c'è la bocca E quindi devo andare di qua Ok Sì Era questa la strada Siamo un po' Eh ragazzi Mi sa che ci salutiamo Perché ho fatto un altro video lungo Come il mio solito Accidenti a me Adesso andiamo un altro po' avanti Ma Non c'è niente Vero? Non vorrei ritornarci Devo ritornarci comunque Perché ho cannato Alla grande delle cose Porca vacca C'è una mira che fa cacare Ragazzo Bisogna dirlo Allora Mi piace Una cosa No però prima Devo calcolare bene Ragazzi Allora Ottimo Quindi Così Così E così Vediamo cosa cambia Buff Buff E vai Grande Mi sei piaccionato Adesso vediamo cosa cambia Cosa succede Facendo una cosa Vagamente intelligente E facciamo così Grande Vai Vediamo Oh cazzo non è andato Peccato Ovviamente li abbiamo fatti tutti E sarà dura qui Questo lo posso ammazzare Senza eccessivi problemi Però Però è meglio far lei Vai Andiamo un po' Ok morto Bene Quai su Bravo Cura Grande Madonna l'ha curato tantissimo Si è che va in base alla magia Quindi effettivamente si Perfetto Adesso Io farei Così Così E così Perché voglio avere dopo Quello lì vuole uccidere all'istante Ok Va bene Eh non uccido più all'istante ragazzi Purtroppo Va bene Mi farò bastare Come posso Aspettiamo un altro turno Intanto curiamoci Eh lo so Lo so Lo so Purtroppo non è andata come speravo Ma Vediamo così E speriamo che il prossimo turno vada meglio Eh lo so Purtroppo hanno un Una schivata atomica loro Eh Così Questa La mantiamo a lui E Basta È un bel casino ragazzi Ok Vai Proviamo così Ok Oh Non è andato Meno male dai E il buff dovrebbe essere Passato adesso Non ancora Maledizione Ok Proviamo così E speriamo bene Mancato Cazzo è mancato anche questo Oh è mancato tutto Mancato Basta questo Ma quanto di dura Accidenti a te Ok Andata Ce l'avemmo Ce l'avemmo Aver fatta Oh Dio Quanto sono dio Non mi ha dato Non mi ha dato Ah mi ha dato parecchio Mille Ok Andata piuttosto bene Poteva andare peggio Diciamoci la verità Vediamo un po' E ovviamente Io sono venuto già di qua Ma porca Mi sono venuti a secco Unam Qualche volta Cavoli Cavoletti Allora Andiamo un po' Ah C'è una cazzi Lo studio Volevo dire Lo studio Della direttrice È alla fine Di questa scala Eh Quindi ho cannato Vedete Lo sapevo Lo sapevo Che è andato Quella cosa Va bene Dai lo faccio Off camera E come al solito Vi vi torno Lasciamo un like Un commento Se vi piace La serie E fammi sapere Cosa ne pensate E per adesso Vi saluto Ciao ciao